Abbiamo presentato ad Arezzo, e lo faremo in tutte le province, il complesso della programmazione regionale di incentivo alle imprese per sostenere gli impegni delle imprese del sistema produttivo ad investimenti in innovazione, tecnologia, nell'internazionalizzazione e nell'accesso al credito. È partito da Arezzo il tour in tutte le province della Toscana per presentare le misure del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale relativa all'imprenditoria. Sono 517 milioni che svilupperanno oltre 2 miliardi e 700 milioni di investimenti produttivi, una scossa per accelerare i processi di transizione ecologica e digitale, per adeguare, rendere più competitive e consolidare le filiere più importanti della nostra regione. L'obiettivo è quello di coinvolgere area per area quel tessuto imprenditoriale che nelle opportunità del Fondo Comunitario per il settennato 2021-2021 può trovare opportunità di crescita o di rilancio. Si parlerà tanto di sostenibilità, si parlerà di 4.0, dunque di un'impresa sempre più altamente tecnologica, anche di internazionalizzazione. Non è un caso che rappresente anche la Camera di Commercio qui di Arezzo e da questo punto di vista, insomma, cerchiamo in qualche modo di dare valore aggiunto alla nostra impresa a Redina. Il ruolo della provincia di Arezzo è quello di coordinamento e dunque da questo punto di vista ancora fa vedere che le istituzioni collaborano per un interesse comune che è quello del raggiungimento di traguardi importanti legati ai finanziamenti europei. Grazie. 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 Grazie.